La Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale operante nel commercio all'ingrosso di articoli sanitari. A seguito anche di alcune segnalazioni di cittadini al 117, i finanzieri hanno intrapreso una serie di controlli sulla regolarità dei prezzi esposti al pubblico e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza dei prodotti. A Schio veniva rilevata la regolare vendita di mascherine protettive ad un prezzo in linea con gli importi medi di mercato, ma i dispositivi di protezione provenivano appunto da un grossista di Padova che aveva omesso di presentare la dichiarazione di redditi e l'IRAP per il 2018. L'azienda padovana però aveva documentato una cessione di articoli medicali per oltre 100.000 euro. A Montecchio Maggiore invece i finanzieri hanno sequestrato in un negozio di ferramenta un fusto di alcol denaturato messo in vendita come surrogato dai comuni disinfettanti. Nel negozio sono state trovate tre bottiglie da un litro circa contenenti alcol denaturato e un fusto da 25 litri contenente e lo stesso alcol destinato alla diluizione di vernici e mordenti. Le particolari circostanze rilevate nel corso del controllo, l'assenza di etichettatura, il confezionamento artigianale e l'elevato prezzo di acquisto in vendita hanno convinto i finanzieri che il liquido fosse destinato ad essere utilizzato come surrogato dai comuni disinfettanti e quindi hanno proceduto al sequestro del materiale. L'attività della Guardia di Finanza si è stesa sul territorio provinciale con 64 pattuglie impiegando 120 finanzieri che hanno controllato 25 esercizi commerciali e 426 persone. I finanzieri hanno denunciato anche 14 soggetti a seguito delle irregolarità delle motivazioni presentate a giustificare gli spostamenti fuori casa.